Premierato forte, decadimento della nazionalità per i terroristi messa al bando del matrimonio omosessuale. Sono solo alcuni dei punti della riforma costituzionale che gli elettori del Kyrgyzstan hanno approvato a larga maggioranza per vie referendarie. L'80% dei votanti ha detto sì al testo voluto dal presidente Almanzbek Atambayev. Secondo l'opposizione, il nuovo sistema indebolisce il Parlamento e rischia di riportare il paese a prima del 2010, quando il padre padrone Kurman Bekbakiev deteneva tutto il potere.